Il comune di Castellabate è stato scelto tra le località campane in sfida per la settima edizione del Borgo dei Borghi, la grande sfida 2019. È già possibile sostenere Castellabate sul sito della RAI www.rai.it slash Borgo dei Borghi sino alle ore 23.59 di giovedì 17 ottobre 2019, quando si conoscerà l'elenco dei vincitori per ogni regione. 60 borghi concorrenti divisi in 20 gruppi, uno per regione. Il vincitore di ogni regione approderà in onda in prima serata dal 22 settembre sul RAI 3. Sono previste infatti quattro serate eliminatorie e una serata finale in diretta il prossimo 20 ottobre, successivo voto mediante televoto. I comuni partecipanti sono stati selezionati in collaborazione con il club dei Borghi più belli d'Italia. 40 località, due per regione, sono alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri 20 comuni, come Castellabate, sono stati selezionati in base ai risultati ottenuti tra quelli che hanno partecipato alle edizioni precedenti della trasmissione. Esprimere il proprio voto è molto semplice. Gli utenti, previa registrazione sul sito RAI, possono votare nella sezione dedicata alla regione Campania. Castellabate è in sfida con Montesarchio e Sant'Angelo dei Lombardi. Si potrà esprimere il voto ogni 24 ore, scegliendo un borgo per ogni singola regione, per un totale massimo di 20 preferenze giornaliere. Gli utenti, già in possesso di credenziali e replay, possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti, non ancora registrati, per votare dovranno creare un'utenza replay, indicando username, password ed indirizzo email di riferimento o utilizzando un account social. Al termine della procedura di voto web, l'utenza visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Il voto web è gratuito. Votare da subito è importante, continuare a farlo per tutto il periodo altrettanto. Commenta così la rinnovata opportunità il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. Invito i cittadini a coinvolgere il maggior numero di persone tramite un passaparola costante, così da poter ambire ad accedere alla finalissima e rivivere l'incanto di vedere i propri paesaggi sul piccolo schermo, tra le meraviglie d'Italia, come durante la partecipazione del 2016 che ci vide sul podio. Abbiamo ottenuto una seconda occasione per salire sul gradino più alto e siamo pronti alla sfida.